Controlli straordinari della Polizia Stradale di Siracusa nel comprensorio di competenza per la settimana, comunque per il periodo delle vacanze estive. Controlli straordinari a tutto campo che tenderanno a controllare la viabilità extraurbana principale, nonché quella secondaria. In maniera particolare la tratta autostradale Siracusa-Catania e Siracusa-Rosolini. Controlli che miraranno soprattutto a verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti, a verificare il rispetto dei limiti di velocità, l'utilizzo dei sistemi di ritenuta e anche la distrazione dei conducenti alla guida dei veicoli. Quali sono i consigli importanti da dare a chi si mette in viaggio in queste ore? Non distrarsi mai, non utilizzare i cellulari né tantomeno gli smartphone quando si è alla guida, non bere eccessivamente, non assumere sostanze stupefacenti e mettersi alla guida del mezzo, rispettare i limiti di velocità, utilizzare i sistemi di ritenuta e rispettare le norme del codice della strada, in particolare le norme di comportamento. Questo può salvare la vita umana, può salvare soprattutto un periodo di festa importante come quello di Ferragosto.